Intensificare il coordinamento dei controlli e lo scambio di informazioni per la vigilanza sulle operazioni finanziate attraverso fondi strutturali e investimenti europei per impedire ingerenze criminali di ogni genere e questo l'obiettivo del protocollo d'intesa esiglato a Catanzaro dalla Regione Calabria e dalla Guardia di Finanza. L'accordo sottoscritto dal governatore Roberto Chiuto e dalla comandante regionale del Corpo Generale di Divisione Gianluigi D'Alfonso si inserisce nella scia di collaborazioni instaurate tra le parti con i protocolli sull'attuazione del piano di rientro e dalla disavanzo della spesa pubblica sanitaria per la tutela delle risorse stanziate dalla PNRR e si propone di valorizzare ulteriormente i rapporti interistituzionali allo scopo di combattere le indebite percezioni di sovvenzioni pubbliche. Ai nostri microfoni il generale della Guardia di Finanza Gianluigi D'Alfonso e il Presidente della Regione Roberto Chiuto. È notevole perché è un protocollo che si aggiunge già a altri protocolli preesistenti in materia di gestione della spesa pubblica, questo in particolare riguarda i fondi strutturali, cioè quei fondi finanziati dall'Unione Europea gestiti dalla Regione Calabria che sono finalizzati per lo più alla coesione sociale, quindi interventi in materia di agricoltura, in materia di attività che hanno la finalità di rilanciare le zone depresse della Regione. Il controllo si esplica in una collaborazione con la Regione Calabria, finalizzata soprattutto ad avere da parte della Regione i beneficiari di questi fondi, poter accedere da parte della Guardia di Finanza alle banche dati e svolgere insieme alla Regione attività formative. Tutte queste attività sono fondamentali per fare degli controlli preventivi, cioè evitare che questi fondi siano gestiti da soggetti anche in odore di criminalità organizzata. Sicuramente è dura, la guerra è impegnativa, però grazie a queste collaborazioni possiamo contare già su ottimi risultati, tanto per dare qualche numero la Guardia di Finanza fino ad oggi in materia di spesa pubblica ha effettuato 100 controlli, ha individuato circa, poi vi daremo i dettagli, circa 250 milioni di Euro ripresi, ripresi in qualche modo individuati come gestiti in maniera non corretta, denunciato 100 soggetti e ottenuto la sospensione di circa 23 milioni di fondi comunitari che non erano stati gestiti in maniera corretta. È stato molto utile il rapporto con la Guardia di Finanza perché per esempio nella fase di accertamento delle pretese creditorie in sanità, in una regione come la nostra dove c'erano stati doppi e tripli pagamenti di fatture, il supporto della Guardia di Finanza è stato prezioso, abbiamo potuto accertare le pretese creditorie dicendo ai presunti debitori che le loro richieste sarebbero state vagliate dalla Guardia di Finanza. Questo ci ha consentito di svolgere più velocemente e più correttamente questo lavoro. Importante però è anche questo protocollo perché riguarda la spesa dei fondi strutturali che sono la leva principale di politica di sviluppo della Calabria. Con questo protocollo si sviluppano attività anche preventive per evitare che ci siano frodi e che magari partano interventi che poi vengano interrotti e diventano a volte, come è stato più volte nel corso degli anni, delle cattedrali incompiute nel deserto di sviluppo della Calabria. Questo protocollo serve a dire ai bravi imprenditori che vogliono utilizzare le risorse dell'Unione Europea che avranno il supporto di tutte le istituzioni, della Regione, della Guardia di Finanza che li metterà nella condizione di lavorare serenamente anche nella scelta eventualmente dei subformitori. In occasione della giornata internazionale della biodiversità abbiamo voluto organizzare nella sede della cittadella regionale un incontro con fronte nel corso del quale abbiamo riportato tutte le azioni svolte dal Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione per proteggere e valorizzare il sistema terra-acqua della Calabria e quanto ha dichiarato il dirigente generale del Dipartimento Regionale Territorio e Tutela dell'Ambiente, Salvatore Siviglia, a margine di una giornata di studio dal tema terra-acqua, sfide e opportunità per una Calabria sostenibile. Il sistema terra-acqua significa che tutto ciò che sostanzialmente potrebbe contribuire allo sviluppo del territorio non può che non passare per le bellezze naturali che abbiamo. Le azioni svolte dal Dipartimento a continuato Siviglia riguardano il contrasto all'inquinamento marino-costiero, l'annoso grave problema della depurazione, il disesto idrogeologico, i rifiuti, la siccità, la ristrutturazione della rete idrica. Considerate che noi abbiamo un territorio ricchissimo di acqua ma, ah no, ancora abbiamo delle sofferenze, delle grigità legate alle infrastrutture idriche che sostanzialmente realizzate negli anni Sessanta hanno punti di grigità per i quali ovviamente come Dipartimento e come Regione lo interessa stiamo programmando importanti risorse finanziarie finalizzate a risolvere questo aspetto. Insieme al Presidente Occhiuta, ha aggiunto Siviglia, stiamo mettendo in atto azioni mirate alla tutela dei territori e anche di supporto con sostegni concreti a quelle amministrazioni locali che hanno l'obbligo di tutelare i beni pubblici. Nel corso della mattinata si sono svolti quattro incontri tematici, giornata internazionale della biodiversità, uso sostenibile delle aree marino-costiere, dinamica delle trasformazioni territoriali, bonifica dei siti inquinati e gestione dei rifiuti nell'epoca della transizione ecologica. È stato un incontro a più voci che ha contribuito a mettere in evidenza l'importanza dell'interconnessione tra patrimonio naturale e culturale, tra le biodiversità che includono le aree naturali protette come i parchi marini regionali, le riserve naturali regionali di Rete Natura 2000, delle biodiversità, i parchi regionali delle serre e del Pollino, le aree marino-costiere, i paesaggi. La Wil Calabria è pronta a rilanciare con determinazione la vertenza Calabria, una battaglia che il nostro segretario generale Pierpaolo Bombardieri ha più volte richiamato come urgente e necessaria. Dalla 2021, quando abbiamo mobilitato l'opinione pubblica nella piazza di Siderno, insieme ai vertici delle organizzazioni sindacali confederali, le questioni critiche del nostro territorio sono rimaste al centro della nostra agenda. Così Maria Elena Senese, segretario generale della Wil Calabrese. Per rinnovare l'attenzione su questi temi cruciali, aggiunge Senese, abbiamo deciso di avviare una serie di riunioni itineranti di segreteria. L'obiettivo è riaccendere i riflettori sui ritardi e le esigenze più pressanti della Calabria, ascoltando direttamente i nostri concittadini e le nostre concittadine. È stata condannata a otto anni di reclusione Anna Perugino, la donna ritenuta listigatrice dell'aggressione a Davide Ferrerio, il giovane di 22 anni di Bologna, ridotto in fin di vita l'11 agosto 2022 nel centro di Crotone, dove era in vacanza da Nicolo Passalacqua, condannato in rito abbreviato a 20 anni di carcere. La sentenza del Tribunale di Crotone, letta dal Presidente del Collegio Penale, Edoardo D'Ambrosio, non ha accolto la richiesta del PM Pasquale Festa di condanna a 12 anni per concorso anomalo in tentato omicidio, ma ha riqualificato il reato in concorso anomalo in lesioni gravissime. Una decisione che avrà ripercussioni anche nel processo di appello per Nicolo Passalacqua, che è in corso a Catanzaro. Assolto invece il co-imputato Andrea Gaio per non avere commesso il fatto. Una persona è rimasta ferita a Settinciano alle porte di Catanzaro a seguito di un'esplosione che si ipotizza possa essere stata provocata da una fuga di gas o dallo scoppio di una bombola verificatasi in tarda mattinata in una villetta su due livelli. La persona è rimasta ustionata, è stata subito soccorsa e trasportata nell'ospedale pugliese Ciaccio del capoluogo calabrese. La deflagrazione ha interessato parte della costruzione, provocando danni significativi, incluso il crollo delle pareti esterne. Sul luogo delle esplosioni in località Martelletto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco con 15 unità, 4 automezzi, autobotti per rifornimento idrico e i carabinieri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.